Che storia, che cosa andiamo a vedere adesso in questo... In questo racconto recuperiamo delle cose che abbiamo un po' annunciato la settimana scorsa quando eravamo ancora a Kiev, che è l'ultimo e il più drammatico passaggio delle guerre, cioè le vittime civili, peggio, chi sopravvive alle vittime civili e ce le racconta e quindi raccontiamo loro stasera. Grazie. 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 Grazie a tutti. Questo è un paese per le persone, per i civili. Ci sono molte persone che non possono camminare. In Irpino vivono 100,000 persone. E ci siamo aiutati 5,000 persone a creare le loro place. C'è molto difficile. Vodosimo da casa, a chi non c'è, a chi non c'è anche casa. C'è la città che c'è la città, che ci aiutiamo a vivere questi giorni. C'è la città che c'è la città. C'è la città che c'è la città che c'è la città. C'è la città che c'è la città che c'è la città che c'è la città. C'è la città che c'è la città che c'è la città. C'è la città che città. C'è la città che c'è la città che c'è la città. C'è la città che c'è la città. ma è un'altra città. E con il suo figlio. C'è la città che c'è la città. C'è un'altra città che c'è la città. C'è un'altra città che c'è la città. C'è un'altra città. Le volete proprio con la città. Il suo solo il suo figlio. E tutto. Il suo figlio. Il figlio. Si scopriamo la città. Il figlio. Il figlio. Il figlio. Il figlio. Il figlio. Il figlio. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.